Dopo la chiusura della puntata di ieri sera del reality, Alessio e Anita Olivieri hanno trovato un momento di intimità nella suite, immersi in un'atmosfera dolcissima, attorniati da palloncini a forma di cuore. Dopo aver condiviso alcuni momenti di tenerezza nella vasca da bagno, hanno ceduto alla passione con un lungo e intenso bacio. Questo lasciarsi trasportare ha rappresentato un momento di svolta, sorprendendo tutti. Anita stava vivendo una fase complessa con il suo ex fidanzato Edoardo e aveva più volte manifestato il suo interesse per Alessio, nonostante fosse appunto reduce da una relazione decennale. Il pubblico aveva seguito con interesse le voloversi della relazione tra i due, speculando sulle possibili dinamiche. Alessio, da quando era entrato nella casa del grande fratello, aveva catturato l'attenzione di tutti, soprattutto per il suo interesse nei confronti di Anita. Quella serata, organizzata nei minimi dettagli da Alfonso Signorini, ha segnato l'inizio di una nuova fase per entrambi, un momento di riflessione e di approfondimento delle emozioni. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.